È uno spazio destinato ad accogliere migliaia di studenti universitari. Dal 2015 infatti l'ex panificio Santa Marta diventerà la sede dei dipartimenti di economia aziendale, scienze economiche e una parte di scienze giuridiche. L'intervento di recupero e restauro dell'imponente edificio di architettura militare austriaca del 1800 è costato 37 milioni di euro a carico dell'Ateneo. È uno spazio enorme, stiamo parlando di 25 mila metri quadri e qui ci sarà tutto quello che riguarda economia. Dalle segreterie studenti, alle aule, ai due dipartimenti, alla dotazione bibliotecaria che in parte è messa nel semi interrato per motivi di staticità e in parte all'ultimo piano c'è una splendida sala di lettura per gli studenti da 300 posti. L'edificio è immenso, l'edificio è di 5 piani, il piano interrato, i tre piani normali, il piano terra e i due piani superiori e il grande sottotetto che abbiamo recuperato per complessivi 25 mila metri quadri, l'edificio è immenso. Un intervento quindi anche conservativo, avete ritrovato anche delle cose che avete valorizzato? Beh, abbiamo completamente restaurato l'interrato che è un piccolo gioiello con murature di pietra vista veramente interessanti e abbiamo recuperato molte delle vecchie macchine che servivano per il panificio vero e proprio. Questo edificio si chiama ex panificio non a caso perché era il panificio dell'esercito, il panificio dei militari e quindi abbiamo cercato quando possibile di recuperare alcune delle vecchie macchine e di metterle in mostra, così come abbiamo cercato di recuperare i vecchi passaggi impiantistici per cui ogni tanto si intravedono sportelli, zone di ispezione, giusto per lasciare una traccia e un ricordo di cosa era l'edificio in origine. L'edificio, storico monumentale, ha richiesto un intervento importante a livello infrastrutturale e impiantistico per realizzare la rete informatica con un'attenzione al benessere ambientale, in particolare all'illuminazione e all'impianto geotermico che garantirà la climatizzazione. Cinque anni di cantiere per un'opera di recupero e ripristino, il cui progetto esecutivo è stato redatto dall'ISP Uav Studi e Progetti. Questo è un esempio di un edificio storico della città che è stato ripristinato proprio per sempre un ambito culturale, quindi dalla storia alla cultura. Il passaggio è questo? Ci sono grandi ricorrenze simboliche perché il 2015 è il centenario dell'entrata nella guerra dell'Italia. Alla fine della guerra si dissolve l'impero austro-ungarico che è quello che ha costruito questo edificio perché era un panificio militare che doveva fornire 50.000 derrate razioni al giorno per l'esercito e viene trasformato in luogo di cultura. Quindi anche qui la fine dell'Europa belligerante e l'Europa speriamo che sia per sempre un'Europa pacifica. L'operatività della nuova sede di economia è prevista per il 2015. Spero per l'estate di poter fare il trasloco, nel senso che qui per quel che riguarda l'edificio mancano alcuni ritocchi. Tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo sarà eliminato il cantiere. Abbiamo già iniziato la fase degli ordini e degli arredi perché siamo sottoposti alle procedure di pubblica amministrazione e quindi speriamo che in primavera si possa fare anche l'allestimento dei mobili di pubblica amministrazione